Terribile scontro tra una moto e un'auto questa mattina a Sanremo in Corso Mazzini nei pressi dello stadio comunale. Un 19enne in sella a una Kawasaki Ninja è rimasto ferito in modo grave dopo essersi scontrato con una Fiat Panda condotta da un anziano. Stando a una prima ricostruzione, il giovane viaggiava verso Arma quando si è schiantato contro la portiera laterale della vettura che si stava emettendo sull'Aurelia da una via laterale. Sono intervenuti carabinieri, polizia di Stato e Municipale, personale medico del 118 e due ambulanze. Mentre l'anziano è stato trasportato in codice giallo di media gravità all'ospedale Boria di Sanremo, a preoccupare maggiormente sono le condizioni del ragazzo che ha perso molto sangue ed è stato trasferito al pronto soccorso in codice rosso di massima gravità.